mi raccomando frank sorridi perché sei sul pesce gatto tv ciao frank bella pesce Montecornizolo 25 maggio 2014 e adesso vedremo il decollo verso il cielo di il nostro amico frank che si prepara per un decollo rinchi eh quindi è quasi diverso va bene domenica 25 maggio ecco il decollo di marco bella bella per marco bella ok domenica 25 maggio decollo di daniele grauco e bruno che decollano ciao ciao adesso adesso loro volano via e siamo qua ancora si aspettiamo e ciao 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 ciao